Truccherai il Palatrento da Pallabanca? No, truccheremo il Palatrento dal Forum di Assago, vogliamo giocare a un V-Day, sappiamo che non sarà un V-Day in campo neutro, però ce la metteremo veramente tutta per poter portare a casa il risultato, se loro ce ne daranno la possibilità. Però noi siamo vivi e abbiamo dimostrato di essere veramente vivi e stiamo veramente bene. Ti spieghi come cambia la battuta rispetto tra una gara e l'altra, proprio tecnicamente? No, tecnicamente non cambia la battuta, qui ci sono i nostri riferimenti, le nostre luci, qua ci siamo allenati tutto l'anno e questa è l'unica cosa dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista psicologico è chiaro che giocare davanti al nostro pubblico, non sentire tutta questa pressione, magari giocare punto a punto invece di essere sempre sotto 6 o 7 punti durante il set è diverso, perché comunque la battuta è anche un fondamentale di grande psicologia. Cosa succede domenica prossima? Domenica prossima dobbiamo assolutamente essere bravi a non caricarci di nessuna responsabilità, siamo arrivati alla quinta, ce la giochiamo alla pari con loro, speriamo di aver creato tanta pressione a loro e di non averne noi, questo dobbiamo essere veramente bravi. Non è che ti piace di questa finale, tu che sei un esordiente? Nella testa di un allenatore questo è un'esperienza impagabile, perché non è un playoff normale, non è una semifinale, io ho qualche esperienza di playoff di A2, ho fatto anche le finali due volte, le finali nei playoff di A2 e vi assicuro che è assolutamente un'altra cosa. Qui c'è tutto diverso, c'è la pressione, c'è tutti che ti guardano, questa è la pallavolo vera.